Dal mare ai primi contrafforti del Gran Sasso, da Torino di Sangro a Forca di Penne, lungo il Tratturo Magno, la stessa via che i pastori abruzzesi e milioni di pecore percorrevano in tarda primavera dalla Puglia, dove avevano trascorso l'inverno, per poter finalmente tornare a casa in Abruzzo. E questo il viaggio raccontato dalla Via della Lana, un documentario destinato al mercato televisivo nazionale e internazionale, in fase di realizzazione, a firma di Cairo Studio e del regista Daniele Di Domenico. Raccontare la pastorizia e la transumanza è importante direi per due motivi fondamentalmente. Uno perché costituiscono proprio la radice della nostra civiltà, in particolare del centro sud Italia, ma se vogliamo di tutto il Mediterraneo. L'altro motivo è perché penso che sia un'attività ancora molto importante, soprattutto per le aree interne e che va valorizzata sicuramente. Una cosa che è uscita fuori parlando con molti pastori e che a volte forse sono stati anche loro un po' dimenticati dalla politica, dal governo del territorio e loro svolgono anche una funzione fondamentale proprio per la tutela dell'ambiente, del distesso idrogeologico e per tanti altri servizi. Un percorso di oltre 240 chilometri lungo il Tratturo Magno ed altre vie, le vie dell'erba, ad uso esclusivo del passaggio delle imponenti greggi, per raccontare in modo unitario e completo la civiltà della transumanza che l'UNESCO ha dichiarato dal 2019 patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il viaggio partito da Foggia dopo il passaggio in Molise si concluderà all'Aquila, alla scoperta dei sontuosi palazzi degli antichi e potenti armentari. Il documentario porterà alla scoperta di Borghi Montani, tra la Maiella e il Gran Sasso, come Pesco Costanzo, Ambersa degli Abruzzi, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte, fino alla Grangia Benedettina di Santa Maria del Monte, che ospitò monaci anch'essi armentari e transumanti. Ora una connessione immateriale che unisce queste tre regioni, non solo dal punto di vista della cultura, ma anche dal punto di vista proprio delle relazioni. Noi abbiamo incontrato parecchie famiglie che erano per metà abruzzesi e per metà foggiane o per metà mulisane e per metà foggiane, proprio perché poi i pastori quando si spostavano incontravano delle belle ragazze, si innamoravano e poi così nascevano queste famiglie, diciamo, transumanti anche loro.